Un'età e le battano in chiesa, bel rispetto, eccellenza, il gran giubilo. Ani per sempre il sogno mio d'amore, l'ora è fuggita e voglio rispettare. Scarpia è un sadico, uno dei cattivi più cattivi della storia dell'opera. Lei, tra l'altro, era nota per essere una delle prime donne al volante. Lui ha detto, hai ragione, è una bella Tosca e poi ti dirò, è una gran bella donna, io corro a Roma e la voglio vedere. Oh, è venuta a Roma, Roma non ha visto proprio niente.